L'Avellino si prepara a grandi passi alla sfida di domenica contro il Lanusei, una partita fondamentale per riscattare la sconfitta della scorsa settimana, mostrando nel primo vero bivio stagionale forza tecnica e morale. Nell'allenamento pomeridiano si è fermato a scopo precauzionale Carbonelli, mentre per la gioia di Graziani il resto del gruppo è tutto arruolabile. Stop forzato solo per i lungodeggenti, Patrignani e Matute. Domattina rifinitura alle 10.30 e poi testa il match nel quale il tecnico carrarese dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Lagomarsini, Trepali, la linea difensiva formata da Mitra al posto di Nocerino, Matute, Mikhailovski e Parisi, Buono e Gerbaudo centrali di centrocampo, Tribuzi a destra e Tomptey a sinistra. Devena a supporto di Sforzini unico, riferimento in attacco. Scalpita Campora, che reduce dall'attacco influenzale, è pronta a dare il suo contributo, magari in corso d'opera. Una partita fondamentale, come detto, caricata sin dall'inizio dalle dichiarazioni dei due tecnici, è arrivato però il momento di concentrarsi sul campo e provare a far vedere qualcosa di davvero importante.